Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento dedicato alla rubrica nutrizione e benessere curata dal dottor Andrea Ricci, biologo nutrizionista. Anche per questa ultima puntata, quindi questo ultimo appuntamento dedicato alla nutrizione e al benessere, parleremo di frutti tropicali e in particolare del mango e del passion fruit. Ecco, perché mangiarli e quali le proprietà? Sì, allora, questi ultimi due frutti di cui parliamo oggi iniziamo dal mango. Innanzitutto ha una forma abbastanza sferica, caratterizzata da una buccia liscia che maturando il frutto ovviamente passa da un colore più verde a un po' più giallognolo. La polpa è di un colore abbastanza vivo, arancione, ha un gusto abbastanza dolce, un po' con dei toni aciduli. 100 grammi apportano in circa 53 calorie, è ricco di sali minerali, soprattutto potassio, magnesio, calcio e anche molte vitamine, soprattutto la vitamina C. Un po' come tutti questi frutti esotici di cui abbiamo parlato negli ultimi appuntamenti, è molto ricco di antiossidanti. In particolare il mango viene ultimamente studiato per una particolare sostanza, un triterpene, che pare avere delle proprietà antitumorali, però ovviamente è ancora oggetto di studio. Le altre proprietà riguardano innanzitutto un grosso numero di fibre, quindi aiutano a regolare il transito intestinale ma anche a dare un certo senso di sazietà. Contiene vitamina A, come abbiamo detto, e quindi aiuta a prevenire tutte le patologie dell'occhio. È ricca di acqua e di potassio, quindi contrasta la ritenzione idrica, aiuta a mantenere sotto controllo la pressione arteriosa e poi ha delle buone proprietà anche ricostituenti, antistress e sembra che il mango aiuti anche a contrastare l'insonnia. Tra le controindicazioni invece del mango ricordiamo, pur non avendo un grosso numero di calorie, però ha una buona quantità di zuccheri semplici e di carboidrati. Per questo è sconsigliato poi chi è in sovrappeso, obeso, per chi soffre di diabete, ma anche per chi soffre di colite, dato il grosso numero di fibre e poi abbiamo le solite allergie a frutto o a lattice e anche chi è in cura o in terapia con degli anticoagulanti deve prestare attenzione al consumo di questo frutto. Invece per quanto riguarda il frutto della passione, che cosa possiamo dire ai nostri telespettatori? Sì, anche il frutto della passione è caratterizzato da questa buccia da un colore violaceo e all'interno tutta una serie di semi che ricordano un po' la struttura del melograno. Ha anch'esso un gusto molto dolce, un po' acidulo, un po' simile anche a quello che è l'arancia. Così come per il mango contiene tantissime fibre, vitamina A, potassio e in più anche delle buone proprietà digestive. Anche qui tra le contraindicazioni ricordiamo un po' il diabete, la colite, quindi le varie allergie e anche per chi è in sovrappeso, obeso, può essere inserito all'interno della dieta, questo vale anche per il mango, ricordando una porzione media di 150-160 gradi da sfruttare soprattutto come spuntino. Oppure in preparazioni molto fresche, tipiche anche di questo periodo estivo, e quindi gelati, insalata, delle mousse. Pare che l'estate, dottore, sia arrivata. Possiamo dare dei consigli ai telespettatori di Cilento Channel? Il primo consiglio è quello soprattutto del bere, quindi dell'idratazione, perché questo vale soprattutto per i bambini e per gli anziani che avvertono meno il senso di sete, quindi è importante bere ovviamente acqua, ma anche idratarsi nel giusto modo attraverso dei centrifugati, dei frullati. In generale poi bisogna un po' ridurre quello che è il numero delle calorie totali, preferendo delle preparazioni più fresche, quindi più estive, condendo sempre a crudo, quindi con dell'olio extravergine di oliva, e dato anche, volendo approfittare poi di avere una buona abbronzatura, anche di incrementare tutti quei cibi ricchi di beta-carotene, che sono quelli che maggior parte, insomma, di colore giallo-arancione, ricordando però che il beta-carotene ovviamente ci aiuta ad avere un bel colore della bronzatura, ma non ci protegge dai raggi solari e quindi dobbiamo sempre utilizzare poi dei mezzi idonei. Bene dottore, grazie come sempre per i preziosi consigli, ne approfitto anche per far sapere ai telespettatori di Cilento Channel che oggi festeggiamo il centocinquantesimo appuntamento di questa importante rubrica, durata quattro anni fino ad oggi e molto apprezzata dai telespettatori di Cilento Channel, ma vorrei anche attraverso il dottore far sapere ai telespettatori di Cilento Channel di una novità per quanto riguarda lo studio nutrizione e benessere del dottor Andrea Ricci. Allora, quali queste novità? Sì, allora, innanzitutto ne approfitto per ringraziare tutti gli telespettatori che da quattro anni seguono con passione la rubrica nutrizione e benessere su Cilento Channel. E poi sì, c'è questa novità che dal primo settembre trasferirò lo studio di Agropoli da via Piave 52, dove è attualmente, in via Giuseppe Verdi 1, sempre ad Agropoli. Però, insomma, avremo modo poi durante questo periodo sia sui social, sia attraverso i vostri canali di Cilento Channel di far ben memorizzare, insomma, questo nuovo indirizzo. Noi ringraziamo come sempre il dottor Andrea Ricci per i suoi preziosi consigli, ringraziamo anche i nostri telespettatori per essere stati con noi per questi lunghi quattro anni e ci rivedremo a settembre con la rubrica nutrizione e benessere sempre sul canale 636 Cilento Channel. Mi raccomando, non perdetela.